L'amministrazione comunale di Fano continua a fronteggiare l'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio non solo le attività ma anche tante famiglie. Così ieri è stata approvata una variazione di bilancio di 300.000 euro da destinare alle persone in difficoltà economica. Voglio sottolineare che lo facciamo con le nostre risorse, non abbiamo avuto aiuti da enti superiori come è avvenuto in altre realtà, come sempre Fano si fa carico con le sue capacità facendo degli sforzi magari privandosi di altre cose ma guardando sempre chi rischia di rimanere indietro. È uno sforzo importante ma l'abbiamo fatto con determinazione. Voglio aggiungere anche e ringraziare sia l'assessore Tinti e tutta la struttura che questi aiuti li daremo fra l'altro direttamente attraverso la tessera sanitaria. Ci tengo a sottolinearlo perché è un bel modo. Si semplifica, si evitano file e si evitano l'utilizzo di persone, di volontari che devono andare nelle case a portare i buoni ma soprattutto si rispetta anche la dignità delle persone senza fare enfatizzare, farsi vedere. Quindi è una bella cosa. Nelle Marche siamo gli unici a fare questa operazione e quindi è una dimostrazione anche di capacità e di efficienza. Questi fondi vanno ad aggiungersi ai 30.000 euro del progetto Passamano finanziato mediante il bando povertà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Con i 30.000 del progetto Passamano andremo a dare un sostegno alle famiglie che sono già in carico ai servizi sociali insieme a quelle che conosciamo tramite la Caritas. E con gli altri 300.000 invece faremo un bando i cui criteri poi andranno definiti nei prossimi giorni con i sindacati, quindi criteri e modalità. Inoltre ci sono novità per le persone sole che si trovano in quarantena. Durante una riunione del COC, il centro operativo comunale alla quale ha preso parte l'assessore competente Cristian Fanisi, è stato deciso di ripristinare il servizio denominato Manteniamo il Contatto. L'iniziativa prevede la collaborazione dei servizi sociali, della protezione civile e di altre associazioni di volontariato. Coloro che non hanno la possibilità di muoversi, perché devono appunto stare in isolamento, ma non hanno neanche una rete parentale, una rete di amici che li può supportare, e noi con le telefonate che ci arriveranno a dei numeri prestabiliti, risponderanno degli operatori ai servizi sociali, poi ci sarà una valutazione da parte di un assistente sociale per valutare la singola situazione e poi verranno attivati appunto i volontari della protezione civile o delle altre associazioni coordinate sempre dal CB Club Matteo e della protezione civile per la consegna a domicilio, sempre per quelle persone in quarantena sole, dei beni di prima necessità, quindi genere alimentari o medicinali.